Eccoci qui a Legnano, un meeting un po' più rilassato con Ilaria Bianchi, la nostra Illy 90 per chi si la ricorda del forum di corsi a 4, un po' di anni fa, adesso abbiamo una grande atleta con tre olimpiadi alle spalle e una stagione tutta da affrontare fino a Budapest. Intanto ve li ha fatti i casi da questi tour del course? Sì, diciamo che abbiamo fatto solo due tappe che sono stati a Ruta e Genova e poi questa volta a Massarosa-Legnano, le uniche gare in corta della stagione invernale perché comunque sono partita un po' più rilassata quest'anno, dopo io che sono partita più di un mese di pausa perché avevo stancato, perché c'è io per tre olimpiadi ai tanti anni che sono comunque ai vertici e questo pesa anche psicologicamente, quindi lo posso dire continuamente e mi sono presa un po' di tempo e ho iniziato a notare quindi un po' più tardi, a Delfino anche, quindi proprio da un mese che dopo non mi vanno di più e quindi insomma i reputati non sono come quelli dell'anno scorso, anzi qua avevo fatto ricorda le mani di questa finale, mi ricordo l'anno scorso 57 e mezzo, qua ma il 59 però insomma quando piove adesso nelle braccia va bene, non farò i mondiali a Windsor perché comunque c'è la Silvia nel posto e ci sono comunque gli assoluti invernali e l'acqua brema e poi dopo da gennaio ripartiremo a pieno regime insomma Ecco ci hai dato la notizia che un po' ci aspettavamo ma anche perché il capofila stagionale in questo momento è Silvia Di Pietro Noi ti facciamo tanti auguri per il proseguo della stagione sicuramente e speriamo di vederti come sempre ai vertici e ti seguiamo sempre con piacere anche perché sei una delle forumiste della prima ora e noi ce lo ricordiamo con affetto Ok grazie a voi Ciao e grazie mille Ciao ciao